Una lezione di calcio, una lezione di calcio agli olandesi che hanno insegnato calcio a tutti, che tutti noi li abbiamo copiati. Napoli è andato ad Amsterdam, Krajfaren e lezioni in assoluto di velocità, di determinazione, di qualità. Ma una cosa splendida e quindi bisogna dar merito a Spalletti di aver creato qualcosa di completamente diverso nella mentalità di questa squadra. Questa squadra gioca per vincere, diverte e ha qualità. Darà spettacolo ancora in Italia nel campionato e in Champions League.